L'iniziativa non è mia, l'iniziativa è di Emanuele Turelli che è qui a fianco a me che secondo me ha avuto il grande merito di ricordarsi di quel cd che io ho fatto dedicato proprio alla tragedia del Gleno e invece che metterci a fare la garetta su chi trattava il tema meglio abbiamo immediatamente deciso di unire gli sforzi e credo che il risultato sia particolarmente venuto bene. Quel giorno siamo stati leggermente, leggermente, siamo stati abbastanza sfortunati perché mi ha zappato il gran bel te, però comunque un po' di gente è venuta lo stesso ma a prescindere dal numero degli spettatori io credo che fosse importante la location fosse importante raccontare quello che accade 88 anni fa proprio in quella zona o no? Sì sicuramente c'è stata un'emozione del tutto diversa poter recitare per me e suonare immagino per te là davanti ai ruderi della diga quindi quello che hanno provato gli spettatori forse non sarà quello che proveranno i telespettatori nel vedere il monologo messo in onda gentilmente dalla vostra mettente ma credo sia comunque un'emozione forte perché poter ricordare quei fatti così drammatici che oggi rischiano di passare un po' nel dimenticatoio a così tanti anni di distanza credo sia anche un rendere onore a chi purtroppo in quei fatti ha perso la vita. Musica e voce, uno spettacolo articolato, come vi siete divisi le parti? Ma siamo riusciti a combinare due prodotti molto buoni a mio parere ovvero il monologo che racconta le vicende umane dei protagonisti di questa storia quindi sostanzialmente di Francesco Morzenti che è il guardiano della diga colui che poi divenne il testimone chiave durante il processo del Cavalier Viganò che era il padre padrone di questa impresa industriale e di un mio bisnonno che richiama un po' un episodio un po' particolare di quella mattina per cui stava parlando al telefono proprio con il guardiano della diga ecco, il racconto è un racconto di storie umane, di particolari tecnici di spiegazione di cosa è successo in quei giorni che viene legato a delle sensazioni forti grazie al brano di Tiziano che fin da subito è sembrato la colonna sonora migliore a questo evento Sì, ecco, chiaramente noi se ci fossimo dovuti limitare al brano ma avreste una desmenuce e invece si è pensato ad altri interventi musicali curati soprattutto dai prismas devo essere sincero, io canto altre due o tre cosine però sono soprattutto i prismas a suonare alcune cose sono tratte dal nostro repertorio chiaramente cose mia metidele a caso cose pertinenti al contesto e in altre occasioni invece i prismas hanno risuonato delle colonne sonore che erano state scritte da Claudio Cominardi credo che ci sia un'alternanza anche riuscita dal punto di vista dei tempi perché Emanuele parla per 5-6 minuti e almeno ogni 5-6 minuti i prismas qualcosina fanno quindi spezzano anche quella monotematicità che potrebbe un po' annoiare lo spettatore come diceva Emanuele secondo me è ben assemblata la cosa